Grazie a tutti. È un film secondo noi molto importante perché cerca di fotografare la realtà dell'Europa in questo momento che leggiamo sui giornali con questi titoli che molto spesso non si capiscono, il conflitto tra la Germania e la Grecia, la crisi economica, sono otto anni che viviamo questa crisi dell'Europa. Il film vorrebbe provocare la gente a pensare di più e più profondamente con grande attenzione a quali potrebbero essere le conseguenze se veramente questo processo di indebolimento dell'Europa continua ad avanzare in questo modo. Forse il messaggio cruciale del film è questa metafora molto drammatica che abbiamo scelto di un aeroplano che rischia di crollare, di avere un disastro aereo. È una metafora molto forte che è diventata ancora più forte negli scorsi mesi per via delle questioni di cronaca che abbiamo visto con l'aereo della German Wing ed è una metafora molto drammatica che però secondo noi riflette questa sensazione molto diffusa in Europa di incertezza, di confusione, di sentirsi su un aereo in cui non si sa chi è ai comandi, non si sa dove stiamo andando. Ecco, quindi questa immagine dell'aereo che va attraverso una tempesta senza una direzione precisa, senza una leadership precisa è secondo me il messaggio più forte del film che vuole spingere la gente a chiedersi ma chi siamo su questo aereo, noi europei, dove stiamo andando, siamo sicuri che sappiamo dove stiamo andando. Io credo che tutti si perderemo da un disastro europeo, in realtà il mondo si perderemo da un disastro europeo, ovviamente non si perderemo da un disastro europeo. Ovviamente, gruppi nazionalistici si possono perdere nel corto termo da un disastro. Ci sono sempre vulti pronti pronti per entrare e farci sui prodotti di un disastro, ma credo che tutti si perderemo se la Unione europea colapsa. Io credo che il modello per la Unione europea è il modello che la Unione europea si sceglie in un certo periodo. Un modello che ha detto che building una propria singola mercata dovrebbe essere il proprio obiettivo. Un modello che ha detto che quando è profondo e sceglie di cooperare, dovremmo cooperare. Un modello che ha cooperato per, per esempio, la politica competizione, ma non ha cooperato per l'energia. Oggi è un'espressione della modello europea che abbiamo pensato che troviamo adottando, ma siamo sembrati alcuni principali del modello che avremmo il modello che ha pensato, che ci sceglie molto bene per molti decenni e che è stata così attrazione per nuovi countries is wanting to join the european union we need to rediscover that model and re-express it for like the modern age extending european cooperation in the single market in services particularly which are not covered by proper single market to energy which is again outside the single market we need to repair the euro and make it a properly solidaristic monetary union with collective responsibility for debts and we above all i think need to through these policies through i think a repeat of the marshall plan of the 1940s expressed in modern days as i think the merkel plan as we say in the film have a public investment program to rebuild infrastructure across europe which would include energy but not only energy as well as adjusting the debts debt burdens of the most indebted countries by substituting them with collective tools like euro bonds in order to provide a new start a new sense of hope a new sense of identity and opportunity for european citizens i think that nations can cope with the sort of single market the sort of vision of europe that that was presented to them but the national politics of very many countries goes for certain periods in other directions and tries to resist some of these tendencies why well it's because of sometimes historical and cultural reasons but also its accidents of recent history which have left those countries for example italy accident of its recent history is the huge debt burden that it was inherited from the 1980s from the financial crisis of the early 1990s an accident of history being like the messed up politics after tangentopoly after manipulite that really held italy back for 20 years with a lack of modernization that has frozen italian institutional and economic structures in the 1960s and 1970s rather than in the 21st century those i think are not eternal features of italy they are accidents of recent history that can then be overcome and i i believe that the government of italy now under matteo renzi as in fact under enrico letter and mario monte are trying to overcome those accidents of history but of course slowly and with difficulty i think that it would be foolish to minimize the challenge made by migration on all of europe it is a huge challenge especially at a time of economic crisis to be receiving hundreds of thousands of new migrants either asylum seekers or economic migrants every year is very difficult for nation states of europe all of them to deal with italy is particularly vulnerable because of its position in the mediterranean other countries have also received uh large flows of migrants coming through other routes particularly germany has received these so we know that this is difficult but equally i think that every member country of the european union surely can understand that actually standing alone and rejecting a european solution is not itself a solution it will not get them anywhere if they fail to find ways to collaborate in in this project and i think that after the last tragedy um off the coast of sicily there is a realization that at least some enhanced collaboration is necessary even if it's only in patrolling uh the mediterranean and repeating the marinostrum uh successes which italy achieved but i think it needs to be much bigger than that we need a collaboration over the right approach to actually dealing with these applications for becoming europeans both from asylum seekers and from economic migrants we need to find a way to process this desire of people to become europeans and control it but also share it out among all the member countries of the european union hopefully in an equal equitable way but at least in an agreed way in advance because we will all receive migrant flows at different times and we will all we all cannot avoid the fact that geography creates for us which is that we are very close to one of the most unstable and poorest parts of the world namely north africa sub-saharan africa and the middle east